mister nicolato tu non sei goduto dal campo ingiustamente il momento finale però come ho detto già adesso una parola è finale finale se mi permetti io tu sai che io non sono uno che che ama parlare insomma che preferiscono poi fatti però stasera due parole le voglio dire le voglio dire in particolare i giocatori perché questi sono giocatori che tutto l'anno hanno sofferto hanno sofferto nel senso che hanno lavorato molto duramente per arrivare a un risultato di questo tipo e li ringrazio perché il loro il loro la loro dedizione è stata totale un altro ringraziamento lo voglio fare alla società questo è un risultato che gli dedico è un risultato che mette in vetrina ai nostri giovani giocatori che fa capire a tutti quanto è importante il nostro settore giovanile e poi la voglio dedicare anche se mi permetti a tutte le persone che in questi 15 anni tutti i tifosi che quindi in questi 15 anni mi hanno dimostrato grande hanno dimostrato grande apprezzamento del mio lavoro e me la grande stima nei miei confronti me l'hanno dimostrato più volte in questi 15 anni di grande soddisfazione per me e voglio che questa vittoria sia anche di tutti quelli che mi hanno voluto bene e la mia famiglia se mi permetti anche questo la mia famiglia è stata per me la cosa è la cosa più importante che ho detto questo è finale noi ci arriviamo un po rabarciati sicuramente molto condizionati diciamo da tutti questi cartellini con delle squalifiche con delle situazioni anche probabilmente di infortunio però siamo in finale è una cosa che è una cosa grande mister lasciamo stare dal punto di vista atletico perché giustamente tu farei le tue considerazioni ma io ho visto una parità dal punto di vista emotivo una gara pazzesca ragguantare il pareggio in due occasioni in dieci uomini con comunque una serata indubbiamente caldissima io credo che lì si parli solo ed esclusivamente di emozioni e di grinta e di qualcosa che c'è dentro questi ragazzi questi ragazzi hanno dentro qualcosa che forse anche loro sanno di avere la prima cosa che mi sento di dire detto questo c'è anche grande impegno grande volontà grande attenzione tattica da parte di tutti grande disponibilità al lavoro e questa sera siamo stati premiati perché insomma secondo me è una partita che abbiamo meritato di vincere non solo perché siamo rimasti in dieci ma anche in undici contro dieci secondo me la partita ce l'avevamo in mano insomma poi una serie di situazioni ce l'ha reso un po' complicata ma abbiamo avuto la forza per venirne fuori veramente in maniera esaltante ecco queste sono le soddisfazioni che ogni tanto il calcio ci regala come dicevi tu per la finale mancheranno degli elementi che sicuramente sono importanti per quello che hanno fatto nel corso della stagione per quello che hanno fatto comunque in queste final eight pensiamo da lì mi pensiamo da silva però questa sera sono entrati giocatori che hanno veramente dato un contributo importantissimo penso a gatto penso a gatto penso a gatto penso a iamaga penso io penso a tutti quelli che sono entrati in questi dieci mesi di lavoro penso sempre gli dico anche a loro penso sempre che una squadra forte si vede dai giocatori che entrano ecco sono loro che ci devono dare qualcosa in più quando ce n'è bisogno quest'anno secondo me l'hanno fatto sempre comunque tutti quanti e anche in questa partita sono stati determinanti ma non solo anche nelle altre partite quindi questa deve essere la nostra forza questa è sempre stata la nostra forza io dedico un pensiero anche a tutti i ragazzi che invece non hanno trovato proprio spazio e anche i ragazzi che sono partiti con noi e magari a metà stagione hanno cambiato società ecco questa una parte di questa vittoria anche loro perché ci hanno permesso di lavorare con grande correttezza sempre ai massimi livelli nel corso di questa lunghissima serata c'è stato un momento in cui hai pensato sì ce la facciamo andiamo andiamo in finale anche anche se stiamo perdendo ma ce la facciamo io come dire ho rifletto un po il pensiero del che la squadra ha dimostrato sul campo io ci ho sempre creduto perché quando vedo la squadra che fa le cose che deve fare che sempre viva in 10 contro 11 abbiamo messo dentro tre punte abbiamo cercato di rimontare ci hanno creduto e ci sono sacrificati io non c'è motivo per cui io non ci credo ci ho sempre creduto io ci credo fino alla fine credo nel valore del lavoro credo nel valore come dicevo prima dei fatti e non delle parole e loro hanno fatto fatti qualche ragazzo già svelato che questa sera possono gli permetti di fare un bagno o qualcosa del genere però dopo bisogna già da domani concentrarsi sulla partita io l'ho definita della loro giovanissima carriera però è la partita per loro della vita ma penso anche per te sicuramente una partita importante noi questa sera ci andiamo a fare un po di come dire di defaticante in acqua più che un bagno allora l'ho fatto passare come un bagno ma in realtà è un defaticante non vengono quindi cerchiamo di fare tutto quello che è possibile per portarli al meglio io questa sera hanno dato una dimostrazione di grandissimo di grandissima preparazione e chiudo chiudo facendo un grande complimento allo staff che ho che è uno staff di primissimo ordine e anche grazie a loro se io in questi in tutti questi anni mi sono tolto molta soddisfazione uno staff di persone che si impegna che cura i particolari che che mi permette di lavorare al meglio io voglio dedicare questa vittoria anche loro complimenti miss crepi grazie mille